Entra nel vivo il mercato del Palermo. La società Rosanero cerca di dare l'accelerata decisiva per consegnare entro 20 giorni l'organico completo al tecnico Giacomo Filippi. Per il ritiro in Campania mancano meno di tre settimane. Fino a questo momento l'unico acquisto è stato quello dell'esterno sinistro Maxime Giron proveniente dal Bisceglie. Nelle ultime ore Castagnini e Sagramola hanno iniziato il pressing per il fantasista Francesco Bombaggi sul quale ci sarebbe anche il mirino di altre società. Il giocatore ha giocato già in Sicilia cinque anni fa con la maglia del Catania. Per ciò che riguarda l'attacco ci si muove per riempire i vuoti lasciati da Mario Santana e Nicola Rauti e per quelle che sono le più che probabili partenze di Lorenzo Lucca e Andrea Saraniti. Nel settore offensivo rimarranno di certo a disposizione Andrea Silipo e Roberto Floriano. Ci si muove anche per il centrocampo. Castagnini avrebbe già contattato nei giorni scorsi il procuratore di Enrico Zampa, centrocampista 29enne in campo lo scorso anno nel Potenza, ma impiegato in precedenza anche in Serie B con le maglie di Ternana e Trapani. E intanto il Palermo ha annunciato l'avvio ufficiale del progetto della polisportiva virtuale che ha come obiettivo quello di creare sinergie fra la squadra di calcio ed altre discipline sportive che saranno tutte con marchio e colori rosa-nero. Sono già dieci le società che hanno aderito. Sono già dieci le società che hanno aderito.